Buonasera a tutti. Ciao. Eccoci, ben ritrovati a Cry Indoors, anche stasera per un caso molto molto speciale. Aspettiamo sempre qualche secondo prima di iniziare, perché così non vi perdete i pezzi, perché ci teniamo a raccontare un attimino questa storia dall'inizio fondamentalmente, perché è un caso che non abbiamo mai trattato qui sul canale, però diciamo è giunto il momento. Quindi approfondiremo tutti gli aspetti della vicenda emersi sinora, cercheremo anche di paventare, ipotizzare il quadro futuro, le nuove prospettive che ci sono in questo caso, quindi le nuove indagini fondamentalmente dove potranno portarci e che tipo di informazioni abbiamo adesso rispetto a qualche anno fa, quindi aspettiamo ancora qualche minuto. Se notate che Giovanni ha già il baffo all'insù, non so, è già sul piede di guerra questa sera, quindi facciamo un po' di attenzione. Ti conviene, siamo in tre stasera, tre donne, quindi... Attento a Gio, eh? No, vuol dire che sono ben accompagnato più che altro. Stavamo già commentando un po' dietro le quinte, quindi lui si è già alterato per questa storia che è veramente brutta, 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 brutta. E non è il solo. Però io sono sicuro che saremmo tutti quanti dalla stessa parte fondamentalmente, cioè potrei farci una scommessa su questo, perché è una storia che aprirà degli spiragli veramente inquietanti. Sì, è una cena di raffreddore, qualcuno se ne ha accorto, sì. Poi questa storia mi rimanda in maniera inevitabile ad altre simili, insomma, no? Vedi un po' per il contesto in cui è nata, vedi un po' per chi è convolto, prendi un'Elisa Klaps, non voglio fare magari nomi un po' più noti, ritondanti come quelli ultimi dell'Orlandi, però che comunque si sviluppano in un determinato magari ambiente. Ambiente, anche la piscaglia. Le abbonanze con altri casi già precedenti. E io mi ricollego al messaggio di Frelli che scrive, felicissima che parliamo di questa storia, una mamma a coraggio che non si è mai fermata anche davanti a un muro di umiltà, perché questa storia è quella che ci restituisce comunque l'immagine di un genitore, di una mamma molto tenera che ogni volta che la vedi ti si stringe il cuore. E se pensi, adesso Lucia che l'ha conosciuta ce ne parla un po', se pensi che è una donna così, di altri tempi, ma una persona semplice, che si ritrova a dover combattere contro tutto questo, è veramente straziante ancora di più. Però lei non ha mai perso la forza. E Lucia l'ha conosciuta, quindi... Sì, Marisa è una persona meravigliosa sotto tanti punti di vista. Io sono stata a casa sua e vi assicuro, cioè, tu entri lì, lei non ti fa mai sentire ospite, ti fa sentire a casa, perché è proprio una donna... Che vi posso dire? Non esistono altre persone così, lei proprio è mamma del mondo, è diventata forse il simbolo dell'essere mamma dopo questa storia di Cristina. Lei non solo non ha perso mai la speranza, ma lei non ha mai chiesto né giustizia né vendetta. Lei ha sempre chiesto la verità. Lei vuole sapere dove stanno i resti di sua figlia, purtroppo, perché passa trent'anni e alla fine è inevitabile pensare a questo. Però lei chiede, appunto, soltanto di sapere dove sono i resti e cosa è successo. Stop, non vuole altro. Esatto, perché non ve l'abbiamo anticipato, ma stasera non parliamo di un caso di omicidio. Lo sospettiamo che sia tale, però il caso di Cristina al momento è un caso di scomparsa. Poi, dato il contesto, ci viene facile pensare che qualcuno li abbia fatto fare una brutta fine, detto proprio in maniera molto chiara e pulita, e capirete anche perché quello che vi diceva Monica mi ha fatto un pochino arrabbiare, perché appunto nei confronti di questa mamma, diciamo, si poteva dare un aiuto in più. Ecco, si poteva tendere una mano in più. Diciamo che in questo contesto ecclesiastico la Chiesa, che si riempie sempre la bocca di belle parole, ha chiuso il suo portone, soprattutto quando è stato abbossato più volte. Ci saranno delle cose che ci faranno inorridire, e quindi io le dirò proprio senza mezzi termini, perché spero che da quei contesti vengano fuori finalmente altri tipi di informazioni. Non critico chi ha taciuto per tanto tempo, ma meno male che finalmente ha esternato delle cose, e quindi, visto che non avete seguito il caso, io comincerei un attimino dall'inizio a raccontarvi che cosa è successo, perché è una storia che fonda le sue radici nel 1992, esattamente il primo settembre, il giorno in cui Cristina Volinucci, una ragazza di solo 21 anni, scompare. Il problema di questa scomparsa è che viene subito relegata ad un allontanamento di tipo volontario, cioè le indagini non sono state approfondite, proprio perché gli inquirenti pensano sin dall'inizio che questa ragazza avesse buoni motivi per allontanarsi da casa, ma capiremo che questi porti si non hanno capito da dove sia nata, su cosa sia stata fondata, visto che la giornata era anche abbastanza scandita di Cristina, se Lucia ci vuol dire anche qualcosina in più, come era stata organizzata, che fine ha fatto effettivamente, parliamo anche un pochino di Cristina, chi era come ragazza, che cosa faceva nella vita, i suoi sogni che potevamo percepire, dalle grandi ambizioni, dall'iscrizione all'università, agli studi, al volontariato, quindi diciamo che era una ragazza molto attiva, solare, allegra, cioè si vede già dal viso che portava la luce ovunque fosse, quindi impareremo a conoscerla questa sera. Cristina, vai, 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 ti lascio subito la parola, volevo fare un collegamento con quello che ha detto Gio, che a questo caso, insomma, che ci vede protagonisti questa sera, ne potremmo affiancare un altro, un'indifferente, che riguarda purtroppo l'altra ragazza, la Chiara Bolognesi, quindi si sta cercando di capire se fra i due casi ci fosse una correlazione o meno, quindi un'unica... E ne parleremo, dopo ne parliamo, così pian piano che c'è anche lei, ho portato anche Chiara, perché la riapertura, come diceva Valle, che cosa è successo? Cioè settimane fa sono stati riaperti due casi della stessa zona, uno appunto quello di Cristina Golinucci, e poi, come vi diceva Valle, anche quello di Chiara Bolognesi, capirete dopo in dettaglio perché. Che due casi che tra l'altro erano stati messi dai giornalisti e dalla gente di Cesena in relazioni all'inizio, ma che la Procura e i Carabinieri hanno subito separato, sono delle storie diverse, hanno detto, non c'entrano neanche una cosa. Nonostante, temporalmente, sono sparite praticamente a distanza di un mese, nelle stesse zone, e avessero anche tanti altri aspetti in comune. In comune. Quindi è veramente strano, difficile cercare di capire il motivo per cui hanno escluso correlazione tra i due eventi, perché oggi credo che questo non accadrebbe, però all'epoca lo negarono, nonostante collegavano giornali, appunto le trasmissioni, collegavano le due sparizioni, e cercavano appunto di capire quali fossero gli elementi comuni. Invece gli inquirenti sostennero che, allora, per Cristina, allo stato attuale, cioè per molti anni, anche se poi mi pare che sia stata dichiarata morta, no? Sì, la madre è stata. e per i inquirenti Cristina si era allontanata da sola, quindi insomma... mettiamo la voce alla parola a Lucia che ci racconta un po' di Cristina, visto che lei ha avuto modo di ascoltare il racconto di chi fosse questa ragazza direttamente dalle parole della mamma, quindi insomma, chi più titolata di lei? No, titolata io non lo sono mai, sono sempre ignorante. Nel senso, tra di noi, hai sentito la mamma, te l'ha raccontata la mamma, quindi... Beh, allora, per me, cioè, Cristina era una ragazza molto dolce, lì, l'hanno descritta tutti quanti, pronta ad aiutare il prossimo, sempre pronta. Era una ragazza, rimasta forse ancora, aveva 21 anni, rimasta un po' forse al mondo dell'adolescenza, che è sognatrice, era una ragazza che però aveva le idee ben chiare di quello che voleva fare, lei voleva essere indipendente. Innanzitutto, una cosa che mi ha raccontato la mamma, che ve la racconto qui, quando era il momento di iscriversi alle superiori, la famiglia viveva un momento di difficoltà economica, lei quindi all'inizio voleva rinunciare agli studi, poi è passato un po' di tempo, un giorno ho detto eh, mi piacerebbe però studiare, e allora la mamma, il papà subito, guarda, potevi dirlo subito, l'hanno iscritta a scuola, lei si è diplomata, voleva fare l'università, e cercava un lavoretto per, diciamo, potersi iscrivere, ancora non sarà iscritta. Lei non voleva pensare sulla famiglia, tutto ciò che faceva, lo faceva con le sue forze, voleva farlo. molto indipendente, però al tempo stesso molto legata alla famiglia, tra l'altro nel suo diario c'è proprio un, uno scritto, insomma, in cui descrive un giorno del suo compleanno, in cui erano venuti tutti i parenti a trovarla a casa, e lei proprio parla di quella bellezza di questa famiglia, di questa grande famiglia, insomma, che aveva. Il giorno della scomparsa, tra l'altro, per loro era un giorno abbastanza importante, perché la sorella, Stefania, che era sposata, in quei giorni stava organizzando il trasloco nella casa di famiglia con il marito. Avevano sistemato il loro appartamentino all'interno della billetta di famiglia e lei la mattina era stata proprio in giro con la sorella per Cesena, per le ultime spesucce, eccetera. Nel tardo pomeriggio, invece, alle 18, aveva un appuntamento con la CISL per firmare alcuni documenti e iniziare a lavorare il giorno successivo. Dal giorno dopo lei avrebbe iniziato a lavorare alla CISL. In più, sempre quel pomeriggio, ha preso appuntamento con la sorella per darle un passaggio a casa dopo il parrucchiere e il primo allarme l'ha dato proprio la sorella che non la vedeva arrivare. Quindi, ecco, insomma, una giornata che per lei era proprio sistemata al minuto, diciamo. Calenzata. Sì. La cosa singolare è che in quella giornata poi, ecco, si allarmano, arrivano più o meno alle ore 18, ora dell'appuntamento con la sorella, e già questa cosa fa strano. Ma alle 20 ormai, diciamo, l'allarme è totale perché non riescono veramente a capire Cristina dove sia finita. E qui c'è una delle cose più assurde che poi, spero di, di avere poi conferma di quello che vi sto dicendo, ma immagino che purtroppo sia così. Perché la prima denuncia di scomparsa viene fatta quella sera, quindi primo settembre, ma delle carte risulterebbe registrate il 16 settembre, cioè passano ben 15 giorni prima che la vera denuncia venga accolta. Se questo resta confermato in ogni notizia che ho trovato tra virgolette tra le carte è già molto inquietante, no? L'approccio a questo tipo di caso, no? Perché uno dà per scontato ciò, ma avete imparato con noi che questa cosa purtroppo col tempo ha creato molta confusione perché la realtà è ben alto. Cioè, se io denuncio la scomparsa di una persona, denuncio perché ho un buon motivo, ho una ragione di credere che quella persona sia in pericolo di vita. Quindi la fantomatica frase, ah, bisogna aspettare 48 ore la denuncia della scomparsa, realtà è falsa, quindi ve la ripeto. se avete dubbi, sospetti che la persona che in quel momento risulta scomparsa possa aver avuto dei problemi, andate a denunciare perché è un obbligo accogliere la denuncia, cosa che non è stata fatta nel caso di Cristina. C'è una cosa ancora più sconvolgente e per anni questo caso alla fine è rimasto in sordina perché dal 92 mi sa che le prime indagini poi effettivamente su qualcosa di diverso allontanamento spontaneo si sono stati fatti due anni e mezzo o tre anni dopo, giusto Lucia? Cioè la riapertura del caso sotto un'altra luce è stata fatta anni dopo, non subito, quindi è rimasto un caso di allontanamento volontario per anni ed è questo diciamo quello che ci sconvolge perché in realtà quello che vedete qui è diciamo il solito identikit che fa la trasmissione chi l'ha visto, quindi si parla del 1995 dove chi l'ha visto riprende questo caso e solo da allora si ricomincia a parlare di Cristina quindi qui già è un po' inquietante poi chi l'ha visto apre il cosiddetto vaso di Pandora perché vengono fuori una serie di situazioni che oggi sono un pochino alla ribalta ora vi spiegheremo che cosa è successo per la riapertura perché in realtà per 10-15 anni in questo caso è stato aperto richiuso aperto richiuso quindi ha visto una serie di archiviazioni oggi diciamo l'associazione Penel che ha fatto un lavoro diciamo meticoloso di lettura degli atti e diciamo ha riascoltato delle registrazioni le ha fatte ripulire e riuscita a capire una questione un pochino intricata adesso vi spiegiamo in dettaglio di che cosa stiamo parlando Cristina stavi dicendo come è sparita cioè del fatto della macchina esatto e lo lascio dire poi faccio una considerazione sul caso raccontalo sì in pratica lei quel giorno come aveva detto si reca al convento ok aveva questo appuntamento con padre Lino il suo padre spirituale ma di lei non ci sarà traccia si ritroverà solamente l'auto una 500 quindi più o meno era una decina di chilometri da casa sua questo convento si trova in una zona in salita quasi una collinetta si può considerare lei va appuntamento intorno alle 14 mi pare di ricordare alle 15 alle 15 ok però per un'oretta diciamo non si presenta questo padre spirituale padre Lino diciamo non si preoccupa fino a quel momento quando va fuori in realtà vede l'auto di Cristina parcheggiata lì nel cortile antistante il convento lateralmente però poi non è che si preoccupa più di tanto si preoccupa all'inizio perché Cristina era una ragazza molto precisa diciamo non avverte non telefona però poi vedendo l'auto lì continua diciamo la sua routine giornaliera doveva fare tipo dei lavori di scavo non ho capito cosa stavano aggiustando però non è che si preoccupa poi più di tanto di chiedersi come mai ci sia l'auto della ragazza con la quale aveva appuntamento poi effettivamente non ci sia lei questo qua già ma è un elemento un po' strano perché poi la macchina resta lì ancora per ore e di Cristina non c'è traccia è anche un po' singolare il comportamento che ha avuto quest'uomo fondamentalmente forse è stato un po' contraddittorio se non ho capito Vale no dico secondo me è stato anche un po' contraddittorio poi nelle successive ricerzioni che hai lasciato ha cambiato versione almeno eh diciamo altre volte ora ha cambiato almeno di versione prima se ne ha accorto poi non se ne ha accorto stava riposando quindi gli è passato di mente poi si è affacciato e la vista ha pensato all'imprevisto quindi un po' di cosine che non vanno ci sono eh ma anche rispetto alle varie diciamo alla posizione delle persone all'interno del convento prima l'ho visto lì poi sono andato di là e me l'ho trovato di là cioè era ci sono parecchie cose che lui ha raccontato versioni che lui ha dato diverse tra l'altro mi verrebbe da dire che pensate no a una cosa del genere accaduta oggi forse lui il padre sarebbe un attimo messo da parte ma voi pensate che lui in un momento lavora con due emigrati tra cui uno rumeno e l'altro nordafricano albanese albanese e nordafricano sudafricano e sudafricano cioè immaginate altro che sparizione volontaria cioè sarebbero già lì ad indagare no invece all'epoca questa cosa non fu non che sia corretto eh assolutamente la mia è una forzatura al contrario nel senso che però veri in effetti oggi che magari c'è un'integrazione differente che quindi insomma non è non è proprio l'elemento il quid che deve indirizzarci all'epoca magari insomma l'avevano proprio con serenità non ci hanno proprio pensato tra l'altro la macchina di quest'uomo l'albanese mi pare era parcheggiata era un ragazzo tunisino che nel convento anche lui quindi insomma però che ben venga che assolutamente dico c'era questo livello di integrazione quindi non c'è stato questo cattivo pensiero però forse se l'avessero fatto in quel momento magari magari qualcosa diciamo fuori sarebbe poi se ci pensi un attimo erano era il 92 quindi l'esodo diciamo dall'Albania era il venuto del 90 con tutti i problemi di sicurezza e di paura del diverso tra virgolette anche perché poi la bomba scoppia perché uno di questi due soggetti adesso che andiamo un attimino a spiegare chi è è un elemento cruciale della storia perché che cosa accade proprio della testimonianza di cui vi parlavo prima no? c'era stata una testimonianza di cosa fondamentalmente una persona che aveva denunciato una violenza sessuale di cui era colpevole questo Emanuele Bocche ok? che è l'unico diciamo sospettato della storia che ad oggi è sparito ma come lo sospettarono? diciamo la presenza di questo Emanuele Bocche all'interno del convento in realtà venne fuori solo a due anni di distanza nel 1994 proprio perché c'era stato questo questo aneddoto che era venuto fuori lui in quel momento era in carcere per quest'altro reato cioè perché aveva violentato quest'altra persona il tentato di violentare un'altra ragazza due violenze esatto due violenze anche un tentativo che viene anche poi raccontato in dettaglio diciamo da queste donne che cosa succede? il momento in cui lui è in carcere questo padrellino che sarebbe il padre spirituale di Cristina Golinucci dichiara in prima battuta di aver accorto diciamo la confessione di Emanuele Bocche in carcere perché gli chiede direttamente tu hai a che fare con la scomparsa di Cristina e lui dice in prima battuta sì sono stato io sono stato una bestia queste sono le parole che lui li porta a padrellino di questa confessione però si verrà a sapere scusami ma è solo padre Lino che glielo chiede perché anche se l'avevano arrestato per violenza sessuale nessuno viene in mente di chiedere a quest'uomo qui questo uomo non è mai stato sentito sulla vicenda di Cristina né come testimone cioè nel 94 quindi quando lui era già in carcere hanno sentito tutte le persone che erano lì addirittura la cuoca del convento hanno sentito lui no lui con tutto che era l'unico che sapevano di preciso dove fosse che era in carcere non è stato mai 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 ascoltato in merito con reati poi potenzialmente che si possono assimilare a delle scomparse no perché dovrebbe venire subito di fare due più due quattro no in questi contesti perché comunque si parlava di aggressioni a scopo sessuale quindi si poteva un attimino andare a delineare che la scomparsa di Cristina poteva essere appunto un caso di violenza sessuale finito male per mettere a tacere una persona cioè anche trent'anni fa voglio dire anche se non c'era questa forma mentis che abbiamo oggi però diciamo un filologico un filologico si poteva seguire anche le due le ragazze non è che restarono vive perché lui le risparmiò cioè una una svenne fu diciamo interrotta dalla presenza di una persona che è sovraggiunta e l'altra scappò quindi non è che lo sappiamo se se in verità stava per trasformarsi in un serial killer per prendere stava cercando di strangolarla con la cintura esatto quindi lei si è salvata cominciando cioè facendolo parlare se no che poi che cosa succede qualcuno ci confessione religiosa esatto però che cosa accade confessione in senso stretto nel senso del termine lui è andato a trovarlo l'ha fatto parlare e lui gli ha detto sì senti sei stato te c'entri qualcosa con Cristina sì sono stato io sono stato una bestia la cosa ecco ecco vai tu vai tu è che padrelino questa cosa se la tiene in corpo per un anno intero cioè dichiara questa cosa 365 giorni dopo se non di più cosa gravissima però che cosa succede poi cioè veramente una cosa ancora più assurda nel momento in cui cercano di fargli esternare nuovamente questa confessione chiamiamola vanno con una sorta di registratore ok quindi avviene di nuovo più o meno lo stesso colloquio ma in quel momento bocche smentisce cioè non conferma nuovamente quello che aveva detto in prima battuta quindi in realtà lui non si accusa mai del della scomparsa della morte di Cristina Golinucci quindi diciamo questa cosa poi è rimasta sempre un pochino lì ecco perché ad oggi si parla di sospettato no perché se avessimo avuto una confessione diciamo nero su bianco anche registrata c'era poco ad oggi questa persona è libera perché ha scontato solo il reato di cui abbiamo parlato prima cioè solo le violenze sessuali ok quindi non ha nulla a che fare col caso di Cristina Golinucci ma noi stiamo col ba ok questo è uno dei primi elementi che ha riportato un attimino sull'attenti quelli dell'associazione Penelope ma ce n'è un altro ok perché queste famose confessioni che stanno andando in giro in realtà potrebbero non riferirsi a Emanuel Boche perché da quel è vero che c'è questa specie di dico non dico ma questo non dico mi fa capire che in realtà ci stiano alimentando anche dei sospetti in persone che erano molto vicini agli ambienti ecclesiastici che non si riferiscano però al Boche che ormai chissà in fuga dove per quale motivo magari ne manchi in fuga non vuole essere più scocciato ma molte testimonianze che stanno è stato ricevuto è uscito dal carcere è andato a casa di Cristina lui ha detto a Padre Lino nel secondo quando insomma gli hanno detto perché l'altra volta mi hai detto così perché in carcere sto male e voglio uscire ok allora questa è anche da stupidi stai dentro ti hanno condannato a sei anni per un omicidio di vecchiler gastolo quindi confessi un delitto più grave per non scontare la pena più bassa però ecco lui è andato lì davanti a Marisa e Marisa gliel'ha proprio chiesto gliel'ha detto noi non ti denunciamo dici dove è il corpo se sei stato tu lui gliel'ha negato anche questo fa capire chi è Marisa che ha voluto incontrare quest'uomo l'ha fatto andare a casa sua sono andati il marito e la sorella di Cristina a prenderlo da grividi proprio questa cosa e lui è andato lui è andato a casa loro e poi gli ha detto no non sono stato io certo questo particolare non ci commuove nel senso che comunque siamo sempre davanti a uno che ha tentato di stuprare o comunque stuprato e tentato di uccidere due donne quindi insomma però è anche vero che andare proprio a casa della mamma di Cristina insomma poteva anche evitarselo però ecco a oggi dire qualcosa lo so rimane secondo me il fatto che è un po' strano che un soggetto del genere non sia stato attenzionato nel momento in cui Cristina è sparita già dalla stessa chiesa qualora fosse stato lui e non ci sarebbe stato motivo per coprirlo quindi insomma sembra più un soggetto che frequentando certi ambienti diciamo avendolo già nell'indole ha scatenato un po' questa sua tendenza criminale però ecco speriamo non abbia fatto del male più a nessuno però allora che poi diciamo ritorno un attimino sempre alla figura di Parvelino che se no me è centrale per i primi momenti di questa storia adesso questo uomo non c'è più ma io continuo comunque ad avere rispetto per le persone di cittura sicuramente questo continuerò a farlo però ho molto amaro perché lui in realtà non ha dato nessuna mano per questa ragazza il suo padre spirituale doveva essere una persona che poteva aiutare di gallunga le indagini che cosa ha fatto in realtà ha semplicemente chiuso le porte in faccia anche la famiglia che ha chiesto aiuto cioè non gli faceva arcare ma anche il portone per dare un'occhiata una controllata all'interno del convento cioè si è sempre barricato dietro a delle mura sia fisiche proprio quelle del convento ma anche morali psicologiche se vogliamo dire cioè si è proprio schermato è stata una persona totalmente impenetrabile perché effettivamente se ad oggi queste testimonianze che stanno venendo fuori porteranno alla luce anche altre persone legate in questi ambienti della chiesa chissà in quale modo magari può darsi anche che siano persone che non per forza vessano diciamo l'abito no? per dire magari però persone legate a una serie di attività di volontariate e quant'altro che facevano le loro belle schifezze ok? e queste persone venivano coperte perché questo muro di omertà non si ha solo nella mafia si è visto spesso e volentieri che le mura delle le mura sacre nascondono atroci e grandi segreti e quindi a volte si ha anche paura di denunciare perché se una donna che subisce violenza e non è un esempio a caso è proprio un qualcosa che è successo lì a Cesena va a chiedere aiuto ad un altro prete dicendo guarda io ho subito molesti da quello mi si è infiltrato in casa mi ha violentato ho fatto così mi fa gli appostamenti si mette dietro al cespuglio è tipo stalker si mette pure dietro all'auto nonostante ci sia il mio fidanzato e lo dichiaro a un padre quel padre poi diciamo mi distoglie dall'idea di denunciare c'è proprio qualcosa che non va cioè ti senti andiamo per gradi diciamo che non posso andare manco per gradi perché questa è la storia è rimasta in anonimato nel senso che al momento noi i nomi non ce li abbiamo però questa storia è stata fatta cioè non è una tua illazione no no è proprio collegata al caso di Cristina Golino la cosa che ancora mi ha fatto ancora rabbia rilacciandomi a Giovanni è che queste le testimonianze erano a fascicolo dal 2010 esatto e che l'avvocato Mattei le ha depositate nel 2010 e dove sono cioè questi dieci anni perché hanno preso polvere e basta che questo è stato perché si paventa anche scusate che lo dico proprio in maniera plateale proprio si addensa all'orizzonte proprio l'ombra e gli abusi secondo me in quell'ambiente ecclesiastico qui lo dico proprio lo affermo perché c'è un circolo troppo troppo di umiltà di collegamenti fra vari casi mi spiace dirlo ma lo dichiaro a chiare lettere proprio cioè si andiamo per gradi proprio dal partendo dal fatto che una delle cose che accomunava le due ragazze quindi in questo caso oltre Cristina abbiamo Chiara di cui abbiamo parlato poco fa è proprio il fatto che anche lei Chiara era vicina ad ambienti ecclesiastici perché cosa succede dopo circa un mese dico bene il 7 ottobre 1992 dalla sparizione di Cristina anche una ragazza di 18 anni di tale Chiara Bolognesi sparisce nel nulla si cercano poco fa dicevamo questo in verità gli inquirenti lo negano però le trasmissioni come Chiara ha visto i vari giornalisti anche diciamo la gente del posto la gente comune mettono subito in correlazione i due i due episodi i due casi anche perché l'età è quasi la stessa il modo in cui sono sparite più o meno è uguale sono svanite tutti e due del nulla in più erano due ragazze semplici che non avevano nessun tipo di problema una vita serena famiglie per bene insomma metterli in correlazione insomma poi frequentavano la stessa l'associazione di volontariato da quel che ho capito esatto non frequentavano la stessa parrocchia mi pare però avevano un'associazione di volontariato cioè attività di volontariato in comune esatto e la cosa infatti brutta frequentavano anche la stessa cioè Chiara ancora studiava Pistina sarà diplomata ma tutte e due andavano alla stessa scuola sì esatto gli inquirenti in un'ansa hanno proprio detto che le due ragazze non si conoscevano hanno fatto proprio dire testuali parole anche questo quelli dell'associazione di volontariato l'Avo l'associazione volontari ospedalieri strano queste due facevano parte tutte e due di lì è venuto fuori che invece avevano fatto il corso di formazione come volontari nello stesso periodo ma perché deve venire fuori 31 anni dopo cioè 30 anni fa ste persone non lo potevano dire guardate fermi un attimo ste due erano noi insieme cioè come mai hanno aspettato secoli adesso vi svegliamo anche poi una cosa che farà venire i brividi a tutti che è questa famosa telefonata che ci fa pensare che i casi siano correlati che cosa accade poco prima del ritrovamento di Chiara Bolognese che avviene a fine ottobre il 31 ottobre del 1992 quindi a poche settimane della scomparsa quindi che cosa succede c'è un prete di del paese che riceve delle telefonate diciamo ci sono una serie di segnalazioni riceve un bel po' di telefonate ma c'è una telefonata che poi vista e letta col senno di poi scusatemi la ripetizione di parole è molto inquietante perché questa persona che era scomparsa viene segnalata in questa telefonata e gli dice guardate che il corpo di Chiara Bolognesi sarà ritrovato nel fiume Salvio si chiama il fiume Salvio in questo fiume e guardate caso dopo pochi giorni ma scarso dieci dodici giorni il corpo di Chiara Bolognesi verrà ritrovato proprio in quel punto c'è proprio nel fiume che aveva dichiarato questa questa soffiata anonima però nella stessa telefonata lo stesso soggetto dirà anche dove poter trovare potenzialmente il corpo di Cristina Golinucci ascoltate bene da un'indicazione ben precisa dice che il corpo di Cristina Golinucci è stato gettato nel Tevere nelle prossimità di un altro convento a Roma perché il Tevere sapete che è a Roma e che c'erano alcuni frati che in un tempo erano stati nel convento di Cesena ma che adesso si trovavano proprio in un convento a Roma quindi la persona che era telefonata voleva dare delle indicazioni e adesso ne rimaniamo con un grandissimo punto interrogativo perché perché non è una chiamata da gente che approva c'è né il medium che tasse conomessa lì perché questa persona poi dopo aveva ragione cioè il corpo di Chiara Bolognese è veramente si è trovato nel fiume che ha indicato quindi io penso che in quella telefonata anche la seconda parte di indicazioni fosse reale a questo punto perché non è che ha sbagliato quindi se una prima parte è stata presa perché dovrebbe sbagliare una seconda quindi io sospetto veramente che quell'indicazione che sia stata data da questo soggetto ad Onettere che era padre parroco della chiesa lì del paese non sia una bugia cioè non sia l'opera di un mitomane perché poi effettivamente abbiamo un riscontro oggettivo cioè Chiara Bolognese è stata trovata lì cioè già questa cosa no che non fa allertare gli inquirenti è particolare che cosa succede per rispondere le domande perché io me le conservo sempre adesso si è riaperto anche il caso appunto di Chiara e non di fare un riesame perché vogliono vedere effettivamente le cause di morte perché il caso di Chiara Bolognese è stato archiviato come un suicidio perché semplicemente questa ragazza andava dalla psicologa perché aveva comunque stava attraversando un periodo difficile ma è proprio la stessa psicologa che dice che fondamentalmente non c'erano i presupposti per terminare la sua vita in quel modo quindi si era archiviata molto velocemente l'indagine come suicidio ad oggi l'hanno riaperta perché perché vogliono vedere se effettivamente ci sono segni di violenza delle tracce riconducibili ad un altro tipo di morte cioè quindi andare a vedere delle cause diverse di morte quindi là dal corpo di Chiara Bolognese poi effettivamente che l'unico corpo effettivo che abbiamo perché qualcuno prima chiedeva non è mai stata ritrovata no Cristina Colinucci non è stata ancora ritrovata né lei ma né tanto meno i resti che penso sia l'unica cosa plausibile da trovare oggi detto proprio francamente mi dispiace ma ne è consapevole anche la famiglia perciò noi chiediamo giustizia perché le ricerche ecco qua sto rispondendo a tutte le domande insieme fondamentalmente le hanno fatte ma il cavolo di Padre Lino che si è messo da barriera tra lui e l'indagine non ha fatto mai accedere non ha fatto mai accedere le persone lì sapete quando hanno pensato a fare le no l'ha già stata una perquisizione nel 94 con l'arresto di Pocke però hanno prelevato solo la roba di Pocke nel 2010 sono rientrati in convento quando è cambiato il priore tra parentesi esatto proprio in quel frangente esatto quello volevo dire è stato cambiato il priore possono accedere poi con gli scanner in georara a fare delle cose un pochino più sofisticate e non hanno trovato nulla di nulla gli ultimi accessi con le stesse tecnologie un pochino più avanzate perché sono passati più dieci anni le hanno rifatte adesso ma comunque abbiamo avuto un esito negativo però voglio dire anche dopo trent'anni devi andare un attimino ad allargare anche il range perché può darsi io lì non conosco la zona ma mi sono fatto un'idea vedendo le foto e c'è molta natura c'è molta natura dove andare ad occultare quindi è difficile poi restringere il campo di ricerca non è una roba facile l'abbiamo visto in tantissimi casi ecco vi ricordate il caso di Samana Basse che era a 500 metri fondamentalmente dalla sua dimora e l'abbiamo trovata dopo un anno ma io vorrei fare una domanda no? sì ma voi vi siete spiegati come è possibile che si sia parlato di suicidio e poi ci sia stata la telefonata che ha indicato dove trovare il corpo in correlazione con il corpo di Cristina perché se avesse detto guardate cercatela posso anche essere uno che è passato e l'ha vista che si buttava no? e quindi è un suicidio però questa persona racconta di più nella telefonata quindi insomma perché anche all'epoca pensarono si trattasse di un suicidio rimane un po' con questa domanda con questa domanda resteremo per sempre fondamentalmente perché adesso ci stiamo chiedendo dall'inizio ma come si fa? c'è lasciare due casi del genere così quello di Cristina c'è ancora di più volontanamento c'è l'allontanamento volontario in base a cosa? un altro è suicidio e ancora all'altro ci archiviamo tutti e due ciao a tutti quanti però per me un filo conduttore c'è anzi secondo me questo è proprio il motivo principale dell'inchiesta attuale della riapertura dell'indagine vedere se c'è questa correlazione se c'è un'unica mano che ha agito su entrambe le ragazze e anche su quelle altre che comunque hanno dato una sorta di testimonianza una sorta di molesse di abusi che avrebbero subito quindi c'è un unico filo conduttore un'unica mano un molestatore seriale secondo me questo è uno dei principali scopi delle nuove indagini però oggi scoprire se se Chiara è stata vittima di violenza è quasi impossibile e questa è la cosa che mi lascia perplesso mi dice Cercasinic quando io ho pensato Cesena a Roma comunque ti porti un corpo da qua a là lo potrei occultarlo anche nelle vicinanze senza portartelo poi nel Tevere però se quell'indicazione è stata data con uno scopo ben preciso può darsi che ci sia altro e perché io lo penso magari non è detto che sia morta proprio quel giorno sapete perché allora se c'è questo soggetto che è vicino alla chiesa ma non è una persona che indossa l'abito monacale che interesse ha che influenza ha su questi soggetti della chiesa tale da far zittire gli altri c'errebbe essere una persona molto influente quindi o è una persona che conosce tanti segreti e quindi hanno un segreto oscuro in comune quindi se salta uno saltano tutti potenzialmente quello o è una persona molto influente che avrà fatto dato favori queste persone perché non mi viene da pensare altro cioè se adesso la figura che è stata individuata è questa persona che era un insospettabile no? una persona innominabile che ha molto potere è collegato a loro ma dico io fino ad un certo punto perché se riesci a passare anche sulla coscienza di un uomo di chiesa che dovrebbe essere ora et labora vuol dire che c'è dell'altro dietro secondo me semplicemente c'era questo segreto oscuro in comune e quindi salti tu saltano tutti perché quello va a parlare no? se viene fuori che sei stato tu sicuro può venire fuori un giro un qualcosa di molto particolare che era stato nascosto e celato per anni no? quindi tante vittime di abuse e quant'altro veramente si andava a scoprire il vaso di Pandora questa è l'unica cosa che mi rende un pochino più cioè dove mi andrei ad indirizzare è questo però poi resta sempre il dubbio di boche cioè potrebbe essere anche che il primo sospitato in realtà sia lui il colpevole perché il quadro c'è il profilo del soggetto c'è tutto io prenderei questo commento qui quando hanno voglia di lavorare il suicidio ma a parte che è un'affermazione che non incontra proprio il nostro pensiero però nello specifico no? sembra quasi che il problema non sia negligenza ma un voler quasi diciamo mettere la parola fine a questa storia ed evitare che si indagasse perché non c'erano proprio i presupposti ragazzi stiamo parlando del 92 non è che era così semplice prendere e sparire nel nulla non so allontanarsi cambiare stato soprattutto per una ragazza che veniva da una famiglia semplice erano contadini più o meno cioè erano persone umili quindi dove doveva andare non cioè aveva un fidanzato aveva una famiglia tranquilla l'idea che si fosse allontanata volontariamente non stava veramente nel cielo e nel terra quindi eh adesso non vogliamo diciamo accusare nessuno però sembra quasi effettivamente che ci sia stato qualcuno che abbia spinto verso questa direzione gli inquirenti anche perché posso fare una valutazione mettiamo caso facciamo un'ipotesi che Cristina volesse effettivamente scappare no? una fuga pianificata perché arrivare con la macchina fino al convento chiederla lasciare documenti eh se non sbaglio correggetemi portare con sé la borsa che poi non è stata mai ritrovata per le altre cose esatto non c'è se io ho intenzione di scappare scappo direttamente da quando esco da casa perché tanto la macchina ce l'ho a disposizione quindi vado dove voglio non devo arrivare per forza là con il rischio che magari qualcuno mi possa vedere capito? ma poi lei tra l'altro aveva telefonato prima di partire per confermare l'appuntamento quindi ha maggior ragione cioè non prendo un appuntamento vero se me ne voglio andare cioè dico a casa vado lì e poi chissà insomma è una giusta osservazione anche perché poi nel convento non ci fai nulla poi sali su una collinetta che non è di facile accessibilità poi penso a riscendere a piedi cioè fai una faticaccia inutile per allontanarti quindi è una valutazione che va presa proprio in considerazione come prima dinamica sbagliata nell'attribuire l'allontanamento volontario cioè da bocciare l'osservazione che hai fatto tu è un'osservazione da persona intelligente dovevano farla anche altri prima di noi no? questa osservazione qui perché giustamente come dici tu se devo scappare ma che ci arrivo a far parcheggiare una macchina su una collina decentrata quindi dopo non ho altre vie non ho un tram non ho un bus per allontanarmi non ho nulla vado a farmi peregrinaggio dalla collina a riscendere per allontanarmi non sta in piedi come ipotesi quindi è una valutazione da tenere in considerazione ritornando che mi viene da pensare che magari ci sia stato qualcuno che abbia proprio costruito una storia dietro a questa cosa una storia che magari poi negli atti non c'è passata ma che abbia comunque convinto gli inquirenti che lei magari lì abbia incontrato qualcuno che magari si sia detto che lì frequentasse qualcuno e quindi magari era scappata con qualcuno che frequentava la chiesa perché effettivamente l'idea che c'era stata all'inizio lei era molto legata ad un sacerdote sudamericano che manco a farlo apposta in quei giorni erano in campo scuola con i ragazzi e tutti quanti non sapevano dove fosse questo cristiano tutti quanti a dire guardate se ne è scappata con padre Alvaro in realtà padre Alvaro si era fatto la sua quindicina di giorni in ritiro con i ragazzi e quando è tornato ha detto no guardate io ero lei e Cristina non era con me cioè subito l'hanno detto c'è stato anche questo tra l'altro hanno detto che l'avano vista a San Benzano così in mezzo ai monti avevano detto che l'avano vista da altre parti non ha allora ritornando sempre al padrelino oggi non c'è più padrelino quindi non può raccontarci altro però se non vado errato lui nella prima ricostruzione cioè nella prima dichiarazione lui dice che Boche in realtà fosse con lui quindi gli crea un alibi a questo Emanuele Boche inizialmente dice no lui era con me però poi guarda caso in realtà non era più con lui lo è solamente dalla seconda metà di quel pomeriggio quindi negli orari compatibili con l'arrivo di Cristina in realtà Boche in qualche parte del convento fuori dal convento nel cortile all'interno non si sa ma sicuramente non era con padrelino la prima volta quindi anche già questa dichiarazione molto contraddittoria che va a scardinare quella che è la verità perché andare a creare un alibi una persona che potenzialmente poteva essere responsabile della scomparsa di Cristina parliamoci chiaro perché adesso noi stiamo andando a vedere quello che è venuto fuori finora ma il profilo di un soggetto capace di violentare uccidere Cristina Golinucci per quello che è emerso c'è con le altre quindi diciamo noi stiamo andando ad ampliare quello che il quadro vi stiamo spiegando perché si è riaperto questo call case e si deve andare ad approfondire perché comunque questa serie di denunce io spero che portino un attimino a denunciare anche altri tipi di situazioni che male non è voglio dire male non è perché sempre giustizia in qualche altro verso si va a fare quindi ben venga che si approfondisca se poi addirittura si trovi la correlazione con altri perché qualcuno diceva può darsi che la telefonata che ha ricevuto il parroco Donetto in realtà non dava indicazioni sul Tevere in quanto come zona di occultamento del corpo ma solo per indicare i sospettati no perché nell'altra telefonata viene proprio specificato che sarà ritrovato il cadavere di Chiara Bolognesi nel fiume lì vicino Cesena e il cadavere di Cristina Golinucci nel Tevere cioè proprio darà questa indicazione nel primo caso ci becca potenzialmente però magari il Tevere che ha una portata immenso come qualcuno ci faceva notare chissà dovrebbe rapportare il corpo qualora fosse veramente però resta sempre il dubbio da Cesena mi porto un cadavere a Roma oppure rapisco una persona e poi la faccio fuori lì dimmi come valuti la la risumazione del del corpo di Chiara in che senso come valuto cioè cosa pensi che si possa ottenere insomma come come la vedi dipende dallo stato di conservazione del corpo fondamentalmente perché questa ragazza non so se sia stata fatta all'epoca c'è un tossicologico che si parla di suicidio ma in che modalità non io non l'ho ricerca è morta affogata ha fatto uso di psicofarmaci ha perso i sensi ed è affogata serve un qualcosa di più specifico adesso i tessuti non so che cosa diranno perché comunque già all'epoca 30 anni fa è stata più di due settimane in acqua quindi già questo ha compromesso sicuramente lo stato di conservazione non è fresco fresco in più mettici che sono passati 30 anni però già andare a fare una serie di indagini che poi non daranno risposta perché sono gli elementi è tanto però magari può darsi che si trovi non bene viene in mente che si cerchi qualcosa di specifico no? allora io da quel che ho capito da quel che ho letto sarebbero cercando dei segni proprio di violenza di violenza io immagino di violenza immagino come aggressione non in quanto violenza sessuale perché dopo 30 anni sia impossibile andare a fare anche qualcosa del genere può darsi e io credo che non verrà fuori niente ok? ci saranno fatti le parti fotografici cioè io non capisco veramente l'utilità insomma però se erano messa come suicidio 30 anni fa non è che come adesso i suicidi comunque viene fatta l'autopsia quando sono dubbi tra virgolette 30 anni fa andevano e facevano funerali però poi parliamoci chiara anche al giorno d'oggi c'è solo la nostra squadra lavora i suicidi come se fossero degli omicidi cioè noi quando andiamo a lavorare sul suicidio non lo sai una pista fredda andiamo a valutare veramente facciamo gli avvocati del diavolo di noi stessi ok? però in molti casi anche oggi nel 2023 subito si chiude voglio dire si fanno qualche domandina in più qualche caso un po' più borderline c'è qualche tempo ma anche oggi c'è ancora un modo di investigare nei casi di suicidio un po' superficiale ma riesumare mi sembra veramente non lo so però allora io l'ho detto secondo me risposte non ne darà però vediamo però Gio ti ricordi che abbiamo affrontato anche alcuni casi in cui gli esami autoptici successivi sono emersi particolari o indifferenti che non erano stati rilevati perciò ho detto vediamo che magari se ci sono dei resti ossidi che possono dimostrare ah volevo rispondere a Sonia magari ci sono dei colpi che non sono stati visti c'è la rottura qualche frattura che si vede poi se una frattura è antemortem post mortem perimortem ok su tipo tessuti analisi di questo tipo io penso che non si possa fare niente più ma già perché all'epoca non si potevano fare nel 92 perché era stata tre settimane in acqua e quindi poi non è che avevamo queste tecniche di nagine così avanzate così sofisticate serviva diciamo un buon substrato sul quale lavorare però io sono contento che si provi a far chiarezza e poi come diceva Valle ci sono stati dei casi in cui delle risposte di Claudia Castini come dice Sonia vedi una giusta considerazione che fa Sonia la rottura dell'osso ioide prendi il caso di Claudia Castini che abbiamo trattato solo con il secondo esame necroscopico fu evidenziata la rottura dell'osso ioide o come quelli la coppia di Policoro quelli lì li ricordi vale non si riusciva a capire cosa fosse successo la rottura della Caldaia e quant'altro cioè comunque dopo 27 anni furono risumati i ragazzi e trovarono non mi ricordo se trovarono non trovarono comunque delle tracce di carbossimo globina che avviene tipo nei casi di esalazione tipo di gas tossico comunque una serie di sostanze sui tessuti dopo quasi 30 anni fu trovato quello che mi fa un attimino essere un po' pessimista è la permanenza in acqua vi dico la verità però però si deve si deve si deve provare perché magari potremmo essere sorpresi in positivo si spera che lì se si dovesse mai delineare anche il margine il minimo margine che Chiara Bolognesi non sia morta diciamo per per un suicidio morte volontà in che modo cioè non lo so le valutazioni prima non venivano cioè come venivano fatte no? uno potesse anche gettato nel fiume no? l'acqua dei polmoni il galleggiamento tutte queste cose qui no? certo le albe che ti possono entrare all'interno dei polmoni che c'erano tipo mi ricordo era il caso qual'è il caso? dove videro le diatome nei polmoni c'era un caso in cui Federica Federica si Mangiapella Mangiapello Mangiapello possono valutare è bisogno le cose interessanti tu sei di Cesena Luca posso chiedertelo Chiara se si fosse suicidata avrebbe dovuto camminare per Cesena per lungo tratto a piedi e nessuno l'ha mai vista nessuno sarà possibile per carità per carità sì sono di Cesena ecco vedi si era si era grazie Luca noi mi amiamo quando abbiamo gente del posto che ci spiega un po' le cose ci commenta conosce Luca quel convento insomma dove sarebbe venuto il fatto insomma quindi avrebbe dovuto fare un lungo tratto a piedi effettivamente è davanti a casa ecco non voglio farti esporre però io so che comunque adesso c'è un po' di tumulto in giro per il paese di queste dichiarazioni che stanno venendo fuori questo maniaco fondamentalmente perché si si configura la figura di un maniaco quindi chiamiamolo per nome non lo sto offendendo lo sto descrivendo come direbbe una mia cara amica e quindi magari stanno venendo fuori delle storie di 30 anni fa di donne che ricordano non so che aria si respira infatti Frelli hai ragione è proprio questo non l'abbiamo accennato comunque sì lei doveva prendere l'autobus per andare da un'amica ma non si sa neanche se c'è arrivata la fermata infatti non si sa effettivamente stiamo dentro Cesena allora ragazzi io ringrazio sempre degli interventi racconti però per essere chiari vi potete esporre però tutelatevi sempre perché le nostre puntate vengono caricate su youtube anche quindi restano lì quindi mi fa piacere però tutelatevi anche perché in giro c'è chi ha la denuncia facile fondamentalmente poi se non dite niente non ci sono riferimenti proprio espliciti va bene ci incuriositi però io lo dico per tutelare anche voi purtroppo il mondo del web è pieno di folli pieno di gente che denuncia a caso anche con i documenti falsi ultimamente quindi quindi la famiglia di Cristo dichiara come ha preso la notizia della resumazione se ci sono dei superstiti immagino di sì no non hanno dichiarato avete visto qualcosa io no te no no perché comunque insomma sicuramente loro non avevano mai creduto nel suicidio quindi per quanto la resumazione di un cadavere sia una cosa poco piacevole presumo che se questo può diciamo portare a una verità diversa per carità però è così qualcuno diceva che non aveva il profilo suicida suicidiario come sapete noi siamo dell'idea che chi si suicida non c'ha un cartello scritto in fronte però effettivamente stiamo parlando di una ragazza che aveva parliamo di Chiara no che aveva diciamo sofferto di onoressia che aveva superato quel momento e che era stava facendo un percorso psicologico con un supporto quindi insomma proprio il profilo di quella che doveva andarsi a suicidare non ce l'aveva fermo restando che poteva anche essere per carità però viene Luca e dice una cosa no che è una cosa anche molto importante non cammini tutto questo tempo a piedi per andarti a suicidare cioè è quel tragitto è quella strada che ti fa riflettere magari ti potrebbe anche far cambiare l'idea cioè io non la vedo questa cosa anche se ripeto però potrebbe succedere perché magari le gambe vanno da scuole quello diciamo sempre quando ci siamo trovati a parlare di altri suicidi ragazzi c'è gente che sorride sta benissimo prepara il pranzo fa tutto quello che vuole e poi invece prende e si uccide quindi mai dire mai in questo caso però ecco sicuramente che poi magari in uno stato di perdizione non immagino che sia proprio questo il caso però a volte puoi fare anche chilometri e chilometri con la mente che va le gambe ti portano da sole arrivi in un luogo ti abbandoni succede quello che succede non lo vedo proprio proprio inverosimile però visto che noi non facciamo solamente questo ma indaghiamo cioè ci occupiamo dei cold case non va intentata cioè nessuna strada dobbiamo percorrere dobbiamo percorrere qualsiasi tipo di strada vedere se è fattibile tanto tempo fa di errori ne sono stati fatti oggi è anche facile io lo dico sempre 500 persone sono tante comunque avete visto che c'è stata una fiaccolata l'8 marzo c'erano 500 persone è una cosa bella vuol dire che comunque c'è molta partecipazione al caso eh non so dove l'ho vista forse ho visto qualche foto forse ho visto cercando un po' di ultime notizie forse l'avevo vista dimmi Lucia io vorrei rispondere alla prima primo intervento di Luca in cui diceva che Bok non aveva né auto né patente ed è per questo che sono state che diciamo è stata attenzionata un'automobile che era ferma vicino a quella di Cristina che era una ritmo di un ragazzo che alloggiava nel convento un ragazzo tunisino che era tornato in Tunisia e aveva lasciato le chiavi al fratello che alloggiava lì quindi è per questo che è stata sottoposta a non è stata mai controllata approfonditamente però quando sono state fatte le indagini sul convento si è puntato su questa macchina proprio per dire guardate che insomma questo qui la macchina la poteva prendere volendo c'era questo però non è mai stata toccata Luca siamo sicuri che nessuno l'abbia vista perché lì mi pare che persone abbiano visto tante cose e non abbiano parlato per trent'anni magari qualcuno ha visto si scocciava si è fatto i fatti su e non ha non ha detto nulla magari riteneva superfluo dichiarare però visto che adesso c'è un po' di fermento un po' nel movimento magari può darsi che qualcuno si ricordi qualcosa di quel giorno non lo credo però potrebbe essere però ho visto già altri aneddoti che stanno venendo fuori piano piano anche le cose stupite non il fatto di queste due ragazze che si conoscevano nessuno ha alzato la mano per dire guardatevi state a sbagliare che se due hanno fatto tutto quanto insieme magari non conoscenza che non erano amiche però una certa familiarità di volto come dico sempre si ha non so quanti abitanti faccia adesso cesina e quanto ne facesse nel 1992 però se già frequenti uno stesso corso di formazione dopo la scelta vuoi non vuoi una familiarità del viso ce l'hai soprattutto se potenzialmente si acquetani perché parliamo di una ragazza di 18 anni e un'altra di 21 la distanza non è tantissima però c'è una cosa che c'è un elemento che distingue i due casi le due sparizioni che potrebbe metterle in correlazione se parliamo di un avventore casuale perché mentre nel caso di Cristina lei arriva al al tutto tutto al convento quindi parcheggia la macchina è in un luogo diciamo sicuro e da lì qualcuno la prende via invece per quanto riguarda Chiara sembra quasi una cosa fortuita no perché lei non sappiamo dove sparisce dove viene presa quindi sembra quasi che sia stato un avventore casuale in questo caso no rispetto magari a a Cristina che potrebbe essere stata nella nostra ipotesi no ad occhiata e quindi aspettata lì e presa dice poteva anche essere il caso di Chiara è un po' diverso perché lei non stava facendo qualcosa di di abitudinario no si era spostata doveva andare a prendere l'autobus doveva andare all'amica non è che stava andando al lavoro e quindi ogni giorno faceva la stessa cosa quindi mentre nell'ipotesi di Cristina mi viene da pensare che se qualora c'entrasse qualcuno legato al mondo della chiesa in generale e quindi qualcuno che la conosceva invece per quanto riguarda Chiara sembra più il rapimento comunque un delitto fatto da un avventore casuale e quindi queste due cose potrebbero riportarci alla figura di Boke no perché lì la vede perché si trovava lì e però è anche colui che prende la gente a caso e prova a stuprarla io comunque detto proprio tra noi vi dico come la penso perché non credo alle coincidenze e alle casualità queste due ragazze sono state uccise cioè anche senza fare l'autobusia di Chiara Bolognesi ho la convinzione che lei sia stata uccisa da qualcuno non si capirà come le moralità probabilmente però non ci credo alle coincidenze e frequentano gli stessi ambienti e hanno la stessa età e scomparono scompaiono a distanza di un mese cioè è un soggetto che ha agito su entrambi ed è lo stesso soggetto cioè le coincidenze in questo quadro non possono esistere cioè si trovano nello stesso posto le due persone quindi stessa età non può essere una coincidenza i due stupri non c'entrano nulla le? quindi abbiamo due casi il caso legato alle due ragazze sparite e poi il caso legato ai due stupratori cioè ai due tentativi ai due stupri ah ok uno che ha agito su Cristina e Chiara e uno che ha agito su la pericola eh no questo non è detto eh beh mi sembra un po' diverso perché le altre due non c'entrava niente quindi se tu vuoi arriesgare eh tu parli di boke no ah ok no io me lo capisci cioè se tu dai per assodato no che per forza ci dovessero una correlazione tra Cristina e Chiara in un certo senso tendi ad escludere la la soluzione di boke perché quello lì però aspetta però non è in maniera casuale cioè non aveva delle vittime designate mi pare di aver capito eh però magari neanche queste cioè però aveva magari la possibilità di addocchiarle negli ambienti eh se lui poi un'altra stava un'altra stava per fare comunque una brutta fine magari queste qua hanno agito un po' di più e le ha viste poi come una futura minaccia di rinunce e quant'altro e le ha eliminate se dovesse essere lui perché comunque se devo io adesso non so chi possa essere effettivamente boke figura perfettamente per i reati che ha già compiuto ok però io sono sicuro di questo che le due ragazze sono state uccise innanzitutto e dallo stesso soggetto cioè non sono due cose che sono venute separatamente è difficile pensare a una cosa eh perché troppo allora già il tempo è ristretto la zona è quella si conoscevano passatemi questo termine si conoscevano stessa età quindi più o meno lo stesso target fisionomia ok un po' diversa ma qua se parliamo di un predatore sessuale voglio dire già che rientra un certo target una certa fisicità anche se non hanno proprio i tratti somatici uguali va bene uguale quindi poi resto rinalizzando proprio la storia con voi il tutto e perché quindi esprimendo i miei pensieri ad alta voce mi convinco di più no ci erano di di Cesena le due sì sempre su Cesena siamo tra l'altro una quanto tempo succede questa cosa di Bokeh? eh due anni dopo due anni dopo i due tentativi il tentativo di stupro e lo stupro vero e proprio sono avvenuti nel giro di pochissimi giorni tra l'altro quindi calzava anche questo con la ricostruzione di Joe anche perché io mi metto nella mente del soggetto ok? eccolo qua la prima delle vittime mi riesce quel che devo fare quindi soddisfo la mia il mio istinto sessuale il mio istinto predatorio faccio fuori funziona per tanti giorni la faccio franca nessuno mi sospetta mi ingolosisco posso farla ancora escalation poi provo mi va male mi rinunciano mi becco vado in galera cioè ci sta il fatto che uno potenzialmente abbia reiterato lo stesso tipo di reato con le stesse moralità perché la prima volta già l'ha fatta franca quindi diciamo vabbè qua se può fa mi viene facile dopo so anche come smaltire quindi per forza ci deve stare cioè adesso è più difficile scardinare scollegare i due casi che altro cioè mi è molto più semplice molto più istintivo pensare che sia lo stesso soggetto che abbia agitoso entrambe vale stavi dicendo no volevo fare la domanda non so se è un po' provocatoria ma non penso falla ci piacciono relativa a due soggetti che comunque erano insomma al punto cardine delle indagini dell'epoca no quindi bokei e padrelino fra i due secondo voi perché comunque è evidente che mentono tutte e due fra i due chi è che ha mentito secondo voi di più forse per coprire l'altro o discolparsi a vicenda o fuorviare le indagini cioè secondo me uno dei due anzi tutti e due sapono bene la verità entrambi mi sono fatta queste idee personali come se l'uno fosse complice dell'altro magari fino a un certo punto il problema è il perché no perché se proprio andiamo a fare i soggetti padrelino che si copre boche che segreto custodiva anche boche di questo padrino e tutti gli avventuri del convento secondo me è un circolo un po' vizioso capisci c'è una reazione un po' di che cioè di che che ruolo aveva poi boche e l'adescatore cioè quello che diceva comunque che mi ha detto comunque Marisa dicevano in giro a Cesena quando sono andata su lì la cosa che girava era siccome la gente mandava le donazioni al convento per dare una mano a tutti questi stranieri dopo che hanno puntato il dito sono diminuite le donazioni e quindi c'è stata questa reazione però effettivamente c'era una persona che ha commesso uno stupro e ne ha tentato un altro assolutamente non in questo ordine nell'ordine inverso ma in questo ordine insomma fa strano fa strano pensate però se è stato lui che ha avuto il coraggio di dire alla mamma di negare la verità alla mamma di Cristina vabbè ha avuto il coraggio di uccidere la figura non mi sorprenderì ha avuto il coraggio di mentire vabbè lui no a me mi ha fatto effetto il fatto che lei se lo sia prontato a casa io che mi ha ucciso la figlia mia non me lo porto a casa meglio l'abbia fatto uscire l'abbia fatto riuscire con le sue gambe da casa ecco Giovanni rispondi alla domanda di Frelli che sono molto da film horror la stella facciamo leggere a tutti così l'accoltamento divanti divanti no se ho configurato ben il soggetto uno di quelli che se ne sbarazza proprio tra virgolette alla buona cioè i fiumi vanno bene nel senso quindi non c'è molta meticolosità nel farlo anche perché poi se stiamo parlando di Boca effettivamente che se n'è andato non era organizzato non era organizzato con quell'altra si stava quasi perché in un'altra era proprio un luogo pubblico se quel che ho capito c'era una zona molto a rischio ma io credo che erano vicino al paesino erano vicino ai paesi delle case insomma sempre un po' campagne però perché lui non stava con la bicicletta il problema è che appunto le chiese hanno una giurisdizione a parte quindi insomma è un po' un casino pensate a Elisa Claps ragazzi 17 anni per trovare le ossa di Elisa Claps perché là ok tutto quello che volete voi il colpevo ma là ci sono altri responsabili che perché quella di Elisa Claps io configuro queste cose come è brutto a dirsi parlo in generale non parlo del caso di Cristino ok come adescatori in cui l'approccio è più facile perché sono tra virgolette normali i cittadini no sono persone che indossano quindi sono più abili ad adescare ok li portano nella tana del lupo e tutti i lupi mangiano insieme è inquietante la metafora che ho utilizzato però però anche io la vedo sicuramente se io posso accedere ok io prete non mi azzardo in prima battuta ad avere un approccio fisico con una ragazza però se me la portano ed è lì comincia l'abusatù io ne approfitto e mi faccio anche le mie robe allora sì certo questo spiegherebbe questo spiegherebbe il silenzio di tutti però sia nel caso di Colinucci sia nel caso di Claps sia nel caso della Orlandi se vogliamo dire così no un soggetto è brutta l'immagine che vi ho dato ma io la vedo così se devo giustificare e delineare un quadro vedo come un adescatore che la porta lì in passo a tutti è brutto ma vedi su questa ipotesi ora che mi ci fai pensare nel primo fascicolo di Cristina c'era una lettera anonima in cui una persona gli era stata una persona era stato raccontato di due frati che parlando così cercavano una donna ora cercavano una donna può essere anche cercavano una donna delle polizie cercavano una donna per far fare assistenza però buttata questa frase solo cercavano una donna ci può stare anche quello che dici te alla fine no anche perché poi non mi spiego tutti questi silenzioni ci deve stare qualcosa da nascun un segreto che accomuna che spinge altri uomini a mentire una certa posizione ci deve stare perché è come una sorta di paura di se io parlo non fornisco un alibi se io faccio questo magari quello dopo va a dire tutto quello che succede qui dentro e vabbè diciamo che l'ho reso elegante ma una persona che non ha nulla da perdere rispetto a un'altra capi? anche con la semplice violenza prestanza fisica cosa che non avrebbe potuto fare un altro c'è proprio anche della serie non tutti i quadri vengono uguali no? immaginate potrebbe essere anche un contesto di quelli che brutalmente ti prende e ti tira dentro eh no no ma io lo vedo proprio così un'aggressione sì sì questo io lo vedo più rispetto al secondo progetto che rispetto a Boke perché lui mi sembra più uno che gli va in corto il cervello reagisce insomma è brutale brutale un po' più fine sottile me lo sono immaginato per la Claps quel quadro un po' più un po' più soft qui invece me lo sono immaginato proprio da ti tiro dentro c'è veramente come il lupo il capo branco prende la preda e la porta al centro e mangiano tutti tutto il branco ok? così me le me immagino se dovesse essere quello è una roba bruttissima da dire però bugie sono state dette anche perché anche perché i due stupri attribuiti a Boke il stupro e il tentato stupro sono avvenuti direttamente dove lui si è preso le ragazze buttate al fosso e è successo il vizio ma non c'è stato uno spostamento un tentare di nascondersi insomma sul ciglio della strada con fare proprio un predatore di quelli proprio senza controllo con l'istinto proprio forte una pulsione incontrollabile quindi appunto te l'ho detto mi dà più di te più che una cosa più organizzata è il caso di Cristina e di Chiara chi è stato è stato se la trovate lì non è che le accercare doveva essere al contrario nel senso che doveva essere che le prime due ti spuggono e poi con le altre due perfezioni il tiro invece se stiamo parlando di Boke le prime due aggressioni che poi non sappiamo se sono le prime due ti vanno benissimo tanto che una la prendono come allontanamento volontario e l'altra come suicidio e poi invece le altre due con un disastro una scappa l'altra manco riesce a violentarla insomma cioè a tratti la figura di Boke si sposa con tutti e quattro i casi a tratti se ci pensi assolutamente no però una volta che cosa accade che il modus superandi di chi agisce ma anche il suo magari aveva visto che era andata bene nelle prime due dopo non è stato poi tanto attento e deciso perché come ho fatto con quelle due mi andrà bene anche qua e quindi è stato leggero nell'attuare potrebbe aver commesso l'errore se lo stesso soggetto sì dovesse essere lo stesso soggetto però sai anche perché dell'altro soggetto poi le ragazze sono ancora vive insomma tra l'altro sai cosa che se fosse stato un un soggetto organizzato no scappata la prima non ci riprovi a distanza di poco tempo no ma io non lo vedo così lo vedo come una una bessa che agisce per pulsione senza controllo proprio e quindi non c'entra nulla e quindi se parti da questo assunto non puoi applicare cioè non puoi vedere lui come responsabile della morte di di Cristina di ma noi non conosciamo le modalità di occultamento di Cristina cioè non sappiamo che fine fondamentalmente abbia fatto l'altro tutto blocco stava dentro un fiume non è che ci vuole tanto e non l'abbiamo trovata però quindi insomma è perché la natura e i fiumi fanno il loro corso quindi secondo me magari anche le ricerche guarda che sono difficili chissà in quelle zone là magari è lì perché tutto secondo me cioè proprio lì vicino lei no ma può darsi può darsi anche tipo gettata molto blandamente in qualche cespuglio in qualche dirupo gli animali vanno fatti il resto non si è cercato bene tu le perdi perdi anche le ossa perché vengono disperse dalla macropauna cioè si aprono un sacco di scenari capi? pure gli animali se si vanno a mangiare le ossa le sposse e quant'altro come si chiamano georadar i georadar che li utilizzarono già dodici anni fa poi hanno fatto diciamo un ultimo sopralluogo adesso questi georadar mi pare di aver capito proprio nel mese di gennaio febbraio così prossimi la riapertura però comunque l'esito è negativo già si sa dei georadar non hanno trovato nulla ma probabilmente pensiamo anche che sia successo lì nelle prossimità di questa altura questa collina e c'è qualche boschetto giù perché già ho visto delle foto dove già quando arrivi nel viale ho visto degli alberi quindi immagino che giù sia ancora più folto basta poco veramente un cespuglio dei rovi dove non è praticabile non è accessibile da tutti le ricerche diciamo non le hanno fatte perché lei si è allontanata volontariamente è triste ma bisogna dire la verità le ricerche non le hanno fatte chi ha dato una mano ha dato una mano alla famiglia per pura coscienza per volontari amici conoscenti delle famiglie non erano gli inquirenti non c'era una forza speciale non c'era una mazza di nessuno per Cristina diciamo le cose così come sta ed è difficile perché veramente la natura nasconde cioè l'occhio si confonde tra i rovi le foglie gli alberi e poi si saranno messi gli animali non so la fauna del posto cosa offre ma che ne so cinghiali ce ne sono colpi lupi non so che cosa ci sia in zona e cosa ci fosse trent'anni fa voi cosa pensate siete ottimisti cioè pensate che la mamma di di Cristina possa conoscere la verità se è stato colui che oggi è introvabile no poi un'altra persona che poteva parlare non c'è più non c'è più è difficile perché tutto quello che ruota intorno a ai prelati insomma alla chiesa quando ci sono gli strani insomma un barlume di speranza c'è perché il soggetto indicato da qualsiasi altra il signore c'ha una certa ma è in vita ah sì sì c'ha una certa ma è in vita quindi bisognerebbe anche un po' sbrigarsi e chissà quante altre ne ha combinate se è veramente così e perciò dopo come si dice si può far quadrare un po' il tutto perché viene uno viene un altro viene un altro e magari è proprio lo stesso soggetto che messa alle strette prende da conta tutto lo scenario magari non c'entra in senso stretto e materiale con la camparsa di Cristina però potrebbe andare a deneare un quadro un contesto particolare dove poi è più ampio e a capire anche alla fine chi ha commesso l'omicidio di Cristina o che è stato ucciso cioè non c'è la rabbia che siano venute fuori che erano nel fascicolo dal 2010 queste riazioni questa è una cosa che sinceramente non mi c'è la pace insomma ecco ma voi parlate di boke perché il soggetto di cui parlo io c'è ancora sempre lo stesso nome e cognome e lo conoscono in tanti da quel che da quel che si dice è un soggetto molto famoso ed era insospettabile ma più che insospettabile direi che era intoccabile a questo punto che abbia degli appoggi delle invece boke eh io guarda ho pensato anch'io che chissà che fine abbia fatto tanto è vero quando sono andato sul web e ho visto mezza foto anche sviadita mi sono un po' angosciato perché uno non può mettere manco un alert perché che cosa accade sicuro se l'ho messo a boke non è più sul territorio italiano perché non ha stuprato più e fuori uno del genere sta ancora stuprando eh sta comprendo sì pare che sia in Francia sì uno del genere non è che poi dopo ah si fa il carcere e si ferma no è un istinto incontrollabile quello che aveva lui se lo soggetto magari ci prova non ci riesce come non c'è riuscito queste magari 70% ci riesce anche 30% no però magari magari è in galera da qualche altra parte esatto esatto potrebbe essere in galera altrove però qui ci dovrebbe essere la comunicazione tra gli stati ma è un'utopia perché già non comunichiamo tra una provincia e l'altra figuriamoci tra i vari stati però non volevo fare questa critica però se un soggetto agente sul territorio internazionale e quindi può agire sta ancora facendo quella che ha fatto nel 92 all'epoca non so quanti anni ha visto ma comunque penso che fosse giovane 25-30 anni aveva sì più o meno lo so boke ma vabbè lo potresti che sia placato un pochino l'istinto di mezzato non ha nulla se è vivo se è vivo se è vivo poi tra l'altro siamo sicuri che si chiamasse veramente Manuel Bocke perché lui non aveva dei documenti reali insomma gli potrebbe anche non chiamarsi così magari usa adesso il suo vero nome magari si chiama John no no John è un nome molto comune per un'identità segreta Jonathan forse forse quindi cara community noi abbiamo delineato quello che è tutto il quadro al momento e qui c'è questo spiraglio aperto di questo soggetto ma non è indagato queste sono chiate aspettiamo un attimo penso che forse ore forse forse ore o giorni insomma che ci arrivano è un po' dura questa la sappiamo no io penso che invece secondo me ci sta l'indagine ma sì anche perché se arriva da una da un'altra da un'altra e c'è il nome e cognome penso che si stia indagando non l'hanno fatto l'indagine tocca la chiesa non tocca ma eh dipende se dipende se un soggetto proprio che che indossa l'abb perché da quel che si capisce non parla di una persona che fa parte della chiesa ma di uno vicino molto vicino molto vicino la chiesa le cose potrebbero cambiare quindi saranno quelle persone che magari gestiscono proprio le associazioni di volontariato qualche benefattore della chiesa come come sono diverse le cose no abbiamo parlato tanto di tutti conoscono la storia di Emanuele Orlandi di Gregori perché vabbè ok sono sparite una vicino al Vaticano però insomma queste due ragazze più o meno diciamo le circostanze non sono uguali ma le ricordano eppure oggi riparlandone i più riduzibili ricordano la storia per molti assolutamente sconosciute a volte si usano così due pesi due misure ma sai Emanuele Orlandi era all'interno del Vaticano cioè lei in fondo andava in barrocchia Cristina e ma cosa cambia? a me ha colpito tanto perché io sono un po' più giovane di lei è diverso perché dentro il Vaticano è una cosa il convento cittadino è un'altra è peggio allora cioè dovrebbe fare più scolpore perché la città vaticana è una città vaticana ci può entrare chiunque dico dentro il convento un po' diverso anche se credo che almeno insomma quella fu una storia magari ne riparleremo un giorno facciamo una puntata anche su Irisa Capps a me quella storia mi ha proprio scioccato sì perché ci sono dei dettagli che non tutti conoscono e che magari la possiamo riportare perché io l'ho studiato il caso lì quindi ci sono degli elementi proprio che mi lasciano molto no non è vero che mi lasciano perplesso perché sono convinto che anche lì ci sia restivo un po' fermato ci sia il branco ma quello era il classico giallo che poteva durare 17 minuti barra 17 ore perché qualcuno prima ha usato una citazione una citazione simile sono agnelli tipo cioè sono lupi travestiti da agnelli eh sì non mi ricordo è una cosa del genere però poi adesso rideva una cosa che è successa aveva detto noi qualcosa di strano che si scompisciavano però mi sono d'accordo con te perché fa molto tenerezza la mamma di Cristina che vuole alla fine soltanto i resti da portare alla tomba accanto al marito e quindi insomma ce l'auguriamo veramente tutti tra l'altro forse dopo 30 anni per quanto sia stato resumato il corpo di Chiara a far ritrovare il cadavere di Cristina non comprometterebbe nessuno perché tanto che si tratti di morte violenta l'abbiamo capito tutti e quindi oggi potrebbe essere forse un atto di pietà un atto di umanità magari anche con una lettera anonima che è quello che ci chiediamo sempre tutti no? non andiamo lontano anche in altri casi come pensiamo ai bambini scomparsi senza fare nomi a volte uno si chiede ma dopo tanti anni no? qualcuno che che dica guardate andate lì che trovate il cadavere no? secondo me qualcuno che sapeva è morto cioè quello della telefonata secondo me non esiste più ma sì assolutamente secondo me non c'è più perché se me già se me già era anziano se me già era anziano all'epoca la persona che ha parlato dico cacchio lilla tutta eh ma l'ha detta una cosa se non ci hanno creduto che doveva fa? che eh però avere raccontato il come il perché il quando perché una persona che dà quelle indicazioni a quel punto significa che tu conosci tutte le dinamiche raccontale cioè non è sana vale a raccontare pure se resti in forma anonima scrivi una lettera con è successo questo si i soggetti hanno fatto così hanno riescato a questa se la sopportate a qua hanno fatto così guardate che poi c'è un'altra cerchia di cioè racconta tutto il fatto a un certo punto ma secondo me non c'è più eh perché con le varie tipi di apertura che comunque come dicevi tu il caso non lo conoscono tutti però io mi ricordo che a più andate è andata avanti il caso della 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 colinucci perciò me lo ricordo e quindi un caso che mi ha sempre interessato pure Vale ci aveva scritto sul nostro magazine più volte perché un caso che che ritorna no più e più volte quindi io immagino che in questi spiragli di apertura e chiusura apertura e chiusura la persona avrebbe aggiunto altri elementi quindi se a me non esiste più e spero per natura non esiste più e che non non abbia fatto una brutta fine per mano di qualcuno che si sentia magari minacciato eh no quello non penso eh però dice sai tutto è possibile guarda che un quadro così oscuro e e niente quindi noi vi lasciamo con questo macabro aneddoto magari ci riaggiorneremo nelle prossime puntate con gli aggiornamenti che si avranno sul sul corpo di Chiara insomma sugli esami su sì sicuramente faremo poi delle puntate dove dedicheremo ci dedicheremo a vari casi e vi aggiorniamo no queste sono le baseline che vi andiate a rivedere io volevo dirvi che vediamo gli esiti che ne so dei risultati le autopsie le analisi varie certo io volevo dirvi che in via del tutto eccezionale torniamo in onda venerdì perché abbiamo una puntata molto interessante vi portiamo un caso assurdo seguiteci sulle nostre pagine che vi racconteremo di cosa parliamo non posso anticiparvi altro vi aggiorniamo quindi ci vediamo questa settimana venerdì quindi il giorno è particolare c'è un buon motivo quindi questa settimana ci vediamo due volte intanto vi auguriamo buonanotte grazie grazie per la vostra presenza per la presenza e sul lunedì vi faremo sapere anche sul lunedì di cosa parleremo esatto buonanotte a tutti grazie a tutti ciao ciao buonanotte grazie grazie a tutti ciao grazie a tutti